Nella mattinata di domenica le strade di Massarosa sono state invase da tanti Babbo Natale in bicicletta per la tradizionale ciclo pedalata di Natale organizzata dalla misericordia di Piano del Quercione. Un giro in bici tra musica e campanelli che ha animato le strade di Piano del Quercione passando Pestiava Piano di Conca fino al centro di Massarosa. L'iniziativa è stata promossa con l'obiettivo di vivacizzare le attività della frazione con spirito di solidarietà e a scopo benefico con l'obiettivo di regalare un sorriso e sostenere le attività dell'associazione l'albero di Oana Onlus con i fondi raccolti durante la mattinata. La ciclo pedalata di Natale 2021 è stata l'occasione per rilanciare la storica tradizione della pedalata benefica che tra gli anni 80 e 90 ha visto la misericordia di Piano del Quercione pedalare anno dopo anno per scopi benefici e che dopo un periodo di pausa si è rimessa in moto. L'iniziativa che ha visto partecipare molti cittadini di Massarosa tra cui la sindaca Simona Barsotti è stata organizzata dalla misericordia con il sostegno di molte realtà del territorio oltre a tutti i genitori e i ragazzi dell'albero di Oana.